Ciao a tutti ragazzi di uno ninja e quest'oggi siamo nella seconda parte del video che è uscito praticamente ieri per farvi vedere come è andata a finire la sfida e com'è il piccone hacker bellissimo e il riparto mi sembra un pochettino qui indietro da dove ho staccato ieri per farvi un pochettino capire quello che è successo però praticamente non faccio tutto un riepilogo e tutto quanto cioè se avrete il video di ieri spezzato in due quindi se non ci capirete niente partite dal video di ieri e poi venite a questo ok? Buona visione Questa qui è la mia fornace, è la fornace di ninja che cuoce il ferro Persona a casa, come mai? Ora lo cambio No, la famiglia di persone a casa, voglio leggere, fammi leggere il cartellone nel video, toguiti Persona a casa, ah dobbiamoci il ferro a posto, andiamo Allora nel frattempo che si cuoce il ferro vi faccio vedere che mi posso ripulire i metri alla cobblestand con questo bottoncino magico Tac, fatto E qui stanno gli altri piccoli, 20 di oro per il piccolo è da 100 euro E nel leggere come si chiama la mia bellissima fornace? No, un diamante per il piccolo è da un miliardo di euro Tu hai già co... co... coстato... No, poi ci sta Per andare in da del per provare il piccolo è a 64 diamanti E qui si apriva il portale E da qui si possono accendere le luci Che sarebbe la night vision che ci abbiamo già Vediamo un pochettino la tua fornace come si chiama Ok, non mi piace come nome Penso che lo cambierai sicuramente Ovvio che non lo cambio Ok, si è colto il ferro, vado a comprare subito il piccone Ti è contato? Sì, si è contato Piccone, 10 di ferro Oh, eccolo Ma, ma Va bene, non mi faccio domande Non ti ha tolto il ferro? No, mi ha tolto il ferro quando l'hai cliccato tu Va bene Bello Qui muoio, cioè se hai cliccato io muoio Incredibile Vabbè, devo scavare così Qui devo fare una cosa del genere Ma non si può fare di punzecchiano d'acqua? Allora, mi serve l'oro Il gold Allora, lo potresti fare Ma dovesti prendere dentro qua l'acqua Non penso ci sia, sai Allora, il gold Dove lo trovo il gold? Oh, 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 il cuore Ma non ti ho detto una cosa Se tu trovi il diamante per comprati direttamente il piccone hacker Perciò Cioè, però il piccone Il piccone Il piccone quello di diamante te lo consiglio è molto buono Perché la scavi molto meglio la questa cosa Che non mi ricordo mai il nome È la di Ipslet Perché col piccone velocemente è il doppio E... No, si chiama cobblestone di Ipslet E' la mia roba Mannaggia Sai dire le cose Non conosco Minecraft E appunto Non conosco Minecraft Trottolare di stone Si può fare il piccone in redstone Oh, sì Ma poi dobbiamo fare la mod Che metti piccone di tutti i materiali Ti facciamo un video Allora Come vado avanti Sono all'altezza a meno 30 Che altezza si trova di diamanti Da questa fino a meno 45 Mi sembra Ma non ne sono sicura Quindi Nel caso scrivetemi i commenti se mi sbaglio Devo andare a più Mi sbaglio Subito A 50 qua A meno 54 Sì Mi sa che c'è ragione No niente Però mi sa che c'è ragione Tu scusami E' meno 54 Ok A posto Mannaggina E' trovato i diamanti No ho trovato loro Ma solo 6 Mannaggia Ah Mi mancava Ti sento Alla mia sinistra Eh lo so Sono alta 38 Dai Ce la posso far trovare qualcosa Di qua Qua c'è qualcosa Me lo sento Devo scappare per di qua Trovo Trovo L'excalibur Trovo Così Da lì Ti ammazzo Sì sì Sto facendo La sto facendo scaletta La scala per scende Cioè Scendo a scala Così per sedere Faccio prima invece di piazzare i blocchi Poi di spaccare Io sono all'altezza a 54 Io sono 43 Tutto la gravella Mannaggina Devo riuscirci Posso vincere La scena Scrivata alla bedrock Mannaggia La nostra cosa non ci voleva proprio Allora La posso vedere? Vabbè si può fare al bordo Sono tutte e due le lati di bedrock Che cos'è? Ah no È un complotto Contro di me Dannazione Alciderbolina Ma se avevo un piccolo in diamante Sarebbe stato tutto molto più semplice Ora ho 20 20? Ah Ah Non me l'avete detta 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 Qualcosa giusto? Signor staff Non me l'ha detta Sta cosa Che cosa hai detto Non ho capito Per fare La ransom Serve per fare L'ingranacidi Per rubare il piccone Sì sì Perché il piccone Hacker ti ha Se lo prendi In pratica funziona così Ma perché Sono spaccato Con il piccone in pietra? Non ci sono Bravo Vabbè alla fine La velocità è quella Eh Allora Lo sento della lava Allora Io devo puntare A trovare il diamante Perché 20 di ore è troppo Perciò devo scendere tantissimo Quindi ho praticamente Alla bedrock E non quella bedrock Ma la bedrock Quella che si trova sotto E devo trovarlo Cioè Non posso fare altrimenti Cioè 20 di ore è tantissimo Non ci E' fisicamente impossibile Riuscirci Perché poi c'è ma che non c'è Ok bello C'è ma che non c'è Singolo Singolo Quindi E' anche più difficile Allora Altezza meno 58 Secondo te li trovi diamanti Almeno 58 Fa messa di un pochettino Non trovo niente Hai trovato? No Ho trovato Sono a 20 Sono a 14 di ore Ok ok C'è la Cerro Ferro Mamma mia Ti puoi fare altri picconi In ferro Devo Devo un attimo Sardino Poi è un po' È un po' Una truppa 10 di ferro Per farci un piccone Però In pratica Una mappa Ti sta Cioè devi per forza Comprare da lei Perché non c'è legno Quindi sì E comunque Io devo andare a cuscere il ferro Sopra Perché Mi si è rotta la fornace E quindi Devo andare a far riparare E forse il gioco Sì Ok Non ho ancora capito Com'è possibile Che non è capito niente Però se è davvero molto normale Sì Però se davvero molto normale Sì 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 E la cosa Sì 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 Il problema è che Anche se arrivi tu Non puoi fare niente A meno che mi dai far studio Dandovi pugni Però Tanto La roba ce l'ho Mai Dai Corri 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 È entrata la manche È entrata veramente la manche Ok Vinci il primo che fa Il piccolo indiamante No no Eh Io l'ho trovato prima Perché sono avvantaggiato Devo tappare la strada Come faccio ora Ti tappo la strada No non puoi ucciderti Perché esparmi lontano E perdi gli oggetti Corri Corri Tac Piccone hacker Indistruttibile Con efficienza 255 Ora È vero che sono 64 diamanti Però Io lo attivo Sul portale del nether E ci vediamo nel nether Perché lo vado a provare Sulla nether Piccone indistruttibile 255 Sei pronto? Dove sono? Non vedo niente Attenzione Oh Arrivo Oh Se sei pronto a vedere Il piccolo è più O più di ma Ho trovato Sulla diamante È fatta apposta Non è vero Non era fatta apposta Allora siete pronti Sono una trivella Sono una trivella Sono una trivella umana Mamma mia E come Officienza 250 E' pura Brega Porseleggi Sotto Sottoscritti Indistruttibile Indistruttibile Non lo può distruggere Nemmeno una ruspa Vapore sopra Cioè Nemmeno Di oggi E' petto Se gli passa Sopra lo distrugge E di oggi E' petto Questa Questa tanto Cosa si deve fare Appena nether Ora Niente Vedere quanto è forte Spaccando la netherrack Si one shot netherrack Praticamente E io butto lo schifo Che aveva nell'inventario Allora Dato che ho vinto io Perché sono stato il primo A comprare Non è vero Non è vero Ci fermiamo così Ditemi se il format Vi piace E se vi piacerebbe Vedere altri video Su questo format Però tipo Non con i picconi Ma tipo con le asche Con le palo Con altre utenze Rimoddati E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao Ciao